Presidente Pallotta, lei oggi è venuto qui a Pescara in Tribunale a portare solidarietà alla collega Lili Mandara in questa causa civile di richiesta di risarcimento danni da parte del Presidente della Giunta regionale D'Alfonso. Sì, perché questa procedura di chiedere rivalse civile, di chiedere risarcimento danni per l'immagine e quant'altro è la dimostrazione di un ceto dirigente, ma non solo nella vicenda, in questa vicenda specifica, ma più in generale di un ceto politico che non è abituato a ricevere le critiche dal monto dell'informazione. Quando i colleghi interpretano fino in fondo questo ruolo critico nei confronti delle istituzioni, del potere politico allora c'è questo atteggiamento di rivalsa pretestuosa, di rivalsa anche intimidatoria. Dobbiamo difendere la libertà di informazione, è sempre più difficile esprimere una libera informazione, il caso Mandara è emblematico, è uno dei tanti purtroppo che registriamo in Italia e per difendere la libera informazione basterebbe una legge abbastanza semplice, una legge che preveda la condanna dell'autore della citazione al pagamento della stessa somma richiesta nel caso in cui il giudice dovesse ritenere infondato il processo e quindi la citazione e quindi riconoscesse il processo temerario.